video test a 1280x720 per il samsung galaxy tab 7 plus la risoluzione massima a cui registra è proprio questa non registra quindi in full hd facciamo una panoramica un po veloce e verifichiamo sia l'autofocus continuo ma non credo direi proprio di no dal display comunque sembra che sia abbastanza stabile e fluido come ripresa guarderemo poi da youtube con questo è tutto ciao da ivan